Archiviamo il primo semestre 2020 con risultati positivi, nonostante l'importante attività di derisking e la ridotta operatività per effetto della prolungata fase di lockdown, durante la quale abbiamo sempre erogato i servizi alla clientela nel pieno rispetto dei protocolli sanitari. Così il consigliere delegato e direttore generale Mario Alberto Pedranzini sintetizza le risultanze positive della prima metà di esercizio 2020 della Banca Popolare di Sondrio, il cui consiglio d'amministrazione presieduto dall'avvocato Francesco Venosta ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno. Pur in assenza di componenti straordinarie positive e con una quota cospicua di oltre 25 milioni di oneri per la stabilizzazione del sistema bancario, BBS ha registrato un risultato netto consolidato di periodo di oltre 14 milioni. Inoltre la straordinaria congiuntura generata dalla pandemia non ha snaturato la vocazione della banca volta ad assicurare un rilevante supporto a famiglie e imprese, non solo in ottemperanza delle misure governative e di quelle promosse dall'ABI, ma anche con iniziative volontarie proprie. Le nuove erogazioni di prestiti a famiglie e imprese da gennaio a giugno sono state pari a oltre 2 miliardi e 300 milioni, a conferma dell'importante sostegno fornito dalla banca all'economia reale durante l'attuale crisi. In tale direzione, a fronte di una raccolta globale sostanzialmente stabile, significativa la crescita dei finanziamenti complessivi verso la clientela del 4,9% rispetto al semestre precedente. Cospicua l'impegno dell'Istituto di Piazza Garibaldi per la riduzione dei crediti deteriorati, abbassati del 25% con la cessione di un miliardo di sofferenze, scesa poi sotto il 10% la loro incidenza sul totale dei finanziamenti lordi alla clientela. I tassi di copertura si attestano su livelli particolarmente elevati, elevati anche il coefficiente di solidità patrimoniale e gli indicatori di liquidità. Unitamente a queste azioni strutturali, Banca Popolare di Sondrio ha rafforzato l'attività bancaria sia online che allo sportello sia con lo smart working che con il presidio fisico tradizionale. Potendo far leva su un capitale umano di primordine, rimarca Pedranzini, ci siamo fatti trovare pronti, dando risposta alle richieste di sostegno di famiglie e imprese. In questo contesto la redditività ha pienamente tenuto, anzi registriamo una crescita del margine di interesse, evidenziando una particolare resilienza del nostro metodo di business. BPS, con rinnovata solidità patrimoniale, affronta così con ragionevole serenità l'attuale crisi e guarda al resto dell'anno con un po' più di fiducia, ritenendo alla nostra portata, conclude Pedranzini, un ulteriore miglioramento dei risultati positivi fin qui conseguiti.